E' il gol di Longobardi a pochi minuti dal fischio finale a far esplodere la gioia dei tifosi del Sesto Levante, regala il secondo posto in classifica e tiene accesi i sogni di promozione dei corsari ormai matematicamente qualificati ai playoff. A farne le spese il Chieri, avversario diretto nella corsa al salto di categoria che con la sconfitta per 1-0 rimediata ieri a Sestri, è stato scavalcato dai rosso-blu di mister Baldini. Davanti a quasi mille spettatori il Sesto Levante è sceso in campo consapevole di poter fare il risultato e per 90 minuti è stato sostenuto dai suoi tifosi. Questi ragazzi hanno vinto, hanno vinto. All'inizio gli avevo chiesto un sogno, volevo vedere questo stadio pieno e penso che insomma il sogno è stato realizzato e quindi questa squadra ha vinto. Oggi il pubblico è stato uno spettacolo e quindi cosa posso dire? I meriti sono di tutti, sono della società, dei ragazzi, di tutti quanti insomma. Qui abbiamo fatto professionismo quest'anno, non so dalle altre parti. Il merito è veramente di tutti e quando si lavora in un certo modo arrivano i risultati. Una festa che come prologo ha visto la premiazione da parte della società di tre vecchie glorie rosso-blu degli anni 60 e 70, Roberto Perfetti, Giovanni Carniglia e Massimo Brusco. Abbiamo cominciato con le premiazioni di tre vecchie glorie della società e abbiamo finito con questa vittoria fantastica di fronte a un pubblico stratosferico. Una giornata indimenticabile direi. Ringrazio tutti, pubblico tutti perché è veramente una gioia immensa oggi. Prossimo e ultimo turno si giocherà domenica e vedrà il Sestri Levante impegnato in trasferta contro il San Colombano. Soddisfatto per i risultati raggiunti, il presidente che a fine partita ha voluto ringraziare i tifosi, l'allenatore e la società. Cercheremo di confermare il secondo posto che abbiamo conquistato oggi. Quando ha detto bene il mister, quando le cose si fanno con volontà e con la massima professionalità come hanno fatto loro, i risultati vengono.